Sono tre i candidati alle elezioni regionali di maggio che domenica prossima si sfideranno alle elezioni primarie. Due di loro provengono dal Partito Democratico, uno dall'Italia dei Valori. Ecco chi sono. Luca Ceriscioli, nato a Pesaro nel 66, è stato sindaco dello stesso capoluogo per il PD dal 2004 al 2014. Proprio nella città costiera ha cominciato la sua attività politica ricevendo l'incarico di segretario comunale dei Democratici di Sinistra. Dopo essere diventato presidente di circoscrizione è stato nominato assessore ai lavori pubblici di Pesaro. Nel corso dei due mandati come primo cittadino è stato anche presidente di alcuni enti culturali, tra cui Rossini Opera Festival e Pesaro Studi. Laureato in matematica, Ceriscioli ha insegnato in diversi istituti superiori ed ora è titolare di una cattedra all'Istituto Tecnico Industriale di Urbino. L'Italia dei Valori parteciperà alle primarie candidando Ninel Donini. Nata a Cagli nel 47, è stata consigliere per la provincia di Pesaro e Urbino, con una breve esperienza di due anni come assessore alla sanità. Tra il 1995 e il 2000 è stata anche componente del Consiglio regionale e capogruppo per i Democratici di Sinistra. Nel 2014 l'Italia dei Valori l'ha candidata alle elezioni europee per le marche ed è attualmente responsabile del settore organizzazione nel partito regionale. Psicologa, la Donini è stata insegnante di lettere. Pietro Marcolini invece è nato a Macerata nel 52 e attualmente assessore regionale per il PD, con diverse deleghe come quella al bilancio, al demanio patrimonio, ai beni e alle attività culturali. È stato assessore anche nella precedente giunta regionale. Alle spalle esperienze come consigliere comunale a Macerata, consigliere regionale, direttore del Dipartimento dei Sistemi Produttivi, direttore del Dipartimento della Programmazione, Bilancio e Organizzazione. Oltre a questi ruoli è stato presidente del Comitato di Direzione della Regione Marche, laureato in Scienze Politiche. Marcolini insegna Economia Politica ed Economia Sanitaria all'Università di Urbino. I votanti dovranno presentarsi domenica al seggio muniti di carta d'identità. Tesserà elettorale 2 euro di contributo per le spese organizzative. Per esprimere la propria preferenza basterà barrare sulla scheda elettorale il nome del candidato che si vuole sostenere. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22. Avranno diritto di voto tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni e anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Ma per quanto riguarda i minorenni e gli stranieri potrà votare solo chi si è registrato online entro le 8 di questa mattina. Loro dovranno recarsi nel seggio speciale, il numero 1, e quindi al circolo PD in via Puccini. Gli altri situati nel comune di Fano sono l'ex sede della seconda circoscrizione in via Rie di Puglia, l'ex scuola Bianchini a Gimarra, l'ex sede e terza circoscrizione al centro commerciale di San Lazzaro, la Cante di Montevecchio a Fenile, la palestra della scuola elementare Sant'Orso in via Soncino, l'ex sede della quinta circoscrizione in via Flaminia a Cucurano e ancora il circolo Arci in via Prima Strada a Bellocchi e l'ex sala di quartiere in piazzale Pucci a Metauriglia. Alcune modifiche invece sono state effettuate nella mappatura dei seggi a causa del passaggio della frazione di Marotta di Fano sotto il comune di Mondolfo. I 69 seggi del comune di Fano diventano 67 perché a Marotta c'erano due seggi appunto. Quindi che succede? Che il seggio numero 55, che tradizionalmente nelle primarie, parliamo di primarie, votava nel seggio di Metauriglia-Ponte Sasso, questa volta voterà a San Lazzaro. Mentre i votanti del seggio numero 64 anche loro non voteranno più a Marotta-Ponte Sasso ma andranno nel seggio di Sant'Orso presso la palestra della scuola elementare. Tutte le informazioni si possono trovare nel sito primariemarche2015.it